Si terrà domani presso la Sala Conferenze di Palazzo Pulvirente a Pedara la conferenza stampa di presentazione della Festa del Don in programma domenica 15 maggio. Organizzata dall'Arcidiocesi di Catania e dalla Pastorale Giovanile con la collaborazione del Comune e di diverse associazioni, la giornata vuole essere un'occasione per poter meditare sul rapporto padre-figlio, visto il tema misericordiosi come il padre lanciato dal Papa nell'anno giubilare. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall'Ercivescovo Salvatore Cristina. Ad illustrare il programma di eventi per l'intera giornata saranno il sindaco Antonio Fallica, l'assessore alle politiche giovanili Leonardo Laudani, il direttore dell'ufficio pastorale della Diocesi di Catania Salvo Gulisano e responsabile della liturgia Alfio Bonanno.